Il caldo torrido di questo weekend non ha tolto energia ai giovanissimi partecipanti al torneo Sartiglia, trofeo Ristano Cetevola per lo sport di tennis organizzato dal TC70 nell'impianto di Torragrande che hanno dato vita a una settimana di gare intense sia a livello agonistico che tecnico. Nella categoria Under 14 femminile ha vinto Beatrice Zucca del tennis club di Cagliari, in quella maschile a trionfare è stato Nicolo Serra del TC Alghero. Nella categoria Under 12 femminile vince Cristina Pili del Green Village di Tortolì. Sempre nella categoria Under 12 ma maschile vince Filippo avvantaggiato del tennis club degli Ulivi di Lecce. Fra gli Under 10 vincono Ludovica Sanna del tennis club di Nuoro e Nicolò Porcedda per lo sporting di quarto. Nella categoria Under 8 vince Francesco Carboni del TC70 Oristano. Il torneo Sartiglia ha assunto valenza nazionale, ha coinvolto oltre 80 giovani atleti fra i quali molti provenienti dalla penisola, ma anche tanti sardi che si sono contesi la terza edizione del torneo, quest'anno inserito negli avvenimenti di Oristano Città Europea dello Sport. Questo è un torneo nazionale con quasi 100 giocatori, Under 14, 12, 10 e anche promo, via di promozionale come si capisce dal termine, promo 8. Maschile e femminile, nonostante il caldo terribile, il torneo si è svolto in modo assolutamente piacevole, il livello di gioco è stato molto alto, i ragazzi erano tutti adeguatamente preparati a un torneo di questa importanza. Siamo molto soddisfatti tenuto conto che era inserito nelle manifestazioni di Oristano Città Europea dello Sport del 2019. La valutazione tecnica di alcuni giocatori, soprattutto due finalisti dell'Under 12, mi fa pensare che abbiamo avuto il piacere di vedere qualche futuro campioncino. Lo scopo non è solo lo scopo sportivo in sé, oltre allo sport lucidamente per Oristano Città Europea dello Sport, però serve per incanalare metodi comportamentali di questi giovani ragazzi che non devono pensare al solito bicchiere di birra in compagnia, a fare atti di bullismo eccetera, ma sono metodi comportamentali che giocheranno quando saranno anche più grandi. A fine torneo sono stati assegnati i titoli e consegnate le coppie ai vincitori e ai secondi classificati di ogni categoria. Per la categoria Under 8 ha vinto Francesco Cavoni, seguito da Daniele Cuoso, entrambi del TC 70. Per la categoria Under 10, femminile, ha vinto Ludovica Sanna del Tennis Club di Nuoro, seguito da Giorgia Rosa Rossi del Tennis Club Terranova di Olbia. Per la categoria Under 10, maschile, ha vinto Nicolo Porcedda dello Sporting di Quartu, al secondo posto Michele Fada del TC 70 Oristano. Per la categoria Under 12, femminile, Cristina Pili del Green Village Tortoli ha conquistato il primo posto. Irene Sanna del Tennis Club di Nuorova di Olbia è arrivata al secondo posto. Per la categoria Under 12, maschile, Filippo avvantaggiato del Tennis Club degli Ulivi di Lecce, al primo posto e Giacomo Margionello del CT degli Ulivi di Lecce, al secondo posto. Per la categoria Under 14, femminile, la vincitrice Beatrice Zucca del Tennis Club di Cagliari. Al secondo posto Valeria Antozzi della società Canottieri Nino Bixio di Piacenza. Per la categoria Under 14, maschile, Nicolo Serra del Tennis Club di Alghero e al secondo posto Leonardo Spano del Tennis Club di Ghinarza.